Accanto ai giovani delle associazioni di volontariato, è nella scuola che il Tavolo Adolescenti opera da diversi anni con educatori, psicologi, docenti, in progetti congiunti fra aziende sanitarie territoriali, istituti scolastici di primo e secondo grado, Promecco per il Comune di Ferrara. Il ruolo della scuola nella prevenzione al disagio in questi anni è diventato un ruolo ancora più importante rispetto al passato perché soprattutto negli ultimi 7-8 anni ci siamo accorti che molti disagi dei preadolescenti avevano dei condizionamenti importanti sull'apprendimento. Abbiamo visto crescere casi di depressione infantile, di disturbi alimentari, di autolesionismo, di disagio sociale fino al ritiro sociale. con alcuni alunni che si sono ritirati dalla frequenza scolastica per rimanere rifugiati in casa. E tutto questo ci ha fatto riflettere e ha portato le scuole, la mia moltissimo, a fare anche un lavoro di formazione sugli insegnanti per fare in modo che acquisissero delle competenze anche in questo campo, quindi sviluppando molto quella che è l'educazione socio-emotiva perché abbiamo visto da tante ricerche, con il supporto di tanti specialisti, avere un ruolo importante nella prevenzione nei confronti di questi disagi. Mi occupo da diversi anni della supervisione di un progetto in sinergia con il comune di Ferrara, di Promeco. Il progetto si chiama Punto di Vista, l'operatore a scuola, ed è un progetto che prevede la presenza di un educatore o di uno psicologo all'interno delle scuole di Ferrara una volta alla settimana, in cui svolge funzioni prevalentemente legate alla prevenzione e quindi ci occupiamo dell'adolescenza a 360 gradi, cercando di sostenere tutto il sistema scolastico e i contesti di riferimento importanti degli adolescenti, quindi anche le famiglie. Lo sguardo della scuola su questi disagi è su due cause principalmente, che sono quella culturale e anche familiare. Nel senso che noi per quanto riguarda la seconda, quella familiare, abbiamo cercato di rinforzare il patto scuola-famiglia perché ci siamo accorti che in molti casi le famiglie da molti vengono definite latitanti, ma non è soltanto questo il problema, è che spesso c'è una fragilità e un'impreparazione sugli aspetti educativi e formativi che a volte nel patto con la scuola vengono rinforzati. Per quanto riguarda la prima motivazione, credo che sia molto generale. La questione culturale, di solito la cultura rende più forti, più liberi e con un maggiore pensiero critico. In queste tre dimensioni c'è molta fragilità da parte di questi preadolescenti in questo momento.